Più che di autonomia differenziata dobbiamo parlare di autonomia privilegiata. Privilegi, divisioni, difficoltà e tutta una serie di conseguenze negative sul lavoro, fiscalità, aree rurali e periferie. E' la definizione dell'autonomia differenziata data da UILA, che promuove insieme a UILA e numerose associazioni laiche e cattoliche il referendum abrogativo della legge Calderoli, una legge che secondo i segretari generali del sindacato penalizzerà severamente i territori, creando spaccature anziché inclusione contro i principi costituzionalmente garantiti dello Stato Comunità. Un sistema inico che privilegierà ovviamente le regioni che già oggi hanno maggiore capacità fiscale a danno delle regioni che invece restano indietro. Una serie di 21 regioni divise che aumenteranno certamente e moltiplicheranno le inefficienze e indeboliranno il nostro paese nella competizione globale. La UILA si organizza allora per sostenere la campagna di raccolta firme per il referendum contro la legge Calderoli e chiama raccolta anche le istituzioni e gli amministratori. Una legge quindi che acquirà le differenze tra nord e sud del nostro paese, tra ricchi e poveri, tra città e periferie. Noi non possiamo permetterlo, per questo raccogliamo le firme e invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere, ma soprattutto nella prossima primavera ad andare a votare e a votare sì per abrogare la legge Calderoli.